Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di Mr. Mignani in vista della sfida di Benevento. Cominciamo ad analizzarla passando la linea ad Antonio Guido del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, Mr. La pre-convocazione di Cheddira è il risultato di un gran lavoro, ma anche della fiducia e degli stimoli che ha trasmesso lei al giocatore. Quanto è felice e quanto è preoccupato se dovesse partire per il Qatar? Posta come l'hai messa tu e sono felice, mi hai dato meriti. A parte gli scherzi, è il lavoro di gruppo, la crescita individuale insieme alla squadra di un calciatore che ha fatto un percorso di un anno e più con noi, quindi è una gratificazione per tutti, penso per il ragazzo stesso, per la società, per me, per i compagni e credo anche per i nostri tifosi. Adesso ce l'abbiamo, adesso lo possiamo utilizzare. Quando andrà via, se andrà via, penseremo a questo. Adesso stiamo preparando la partita col Benevento e non possiamo preoccuparci di quello che succederà tra un mese. Michele Carofiglio, prego. Buon pomeriggio, mister. Le chiedo che partita si aspetta contro il Benevento e che cosa si aspetta in virtù dello scontro in panchina con un suo ex compagno di reparto per quanto riguarda da calciatore, insomma, erano entrambi i difensori con Cannavaro, insomma, oltretutto lo avrà affrontato tantissime volte anche da calciatore, insomma, questo rivederlo in panchina, che sfida si aspetta da questo punto di vista? Ma il paragone calcistico non regge perché Cannavaro è stato un campione e che io ho guardato più spesso dalla televisione e non le volte ci ho giocato contro, che sono sicuramente poche, però è una figura che ho sempre ammirato, che ho sempre apprezzato, al di là delle qualità di calciatore, anche per l'immagine dell'uomo di per sé. Sarà un piacere incontrarlo, sarà un piacere sfidarlo, sarà un piacere stringergli la mano, però poi noi dobbiamo pensare alla partita e mi aspetta una partita, come sempre, molto difficile, perché questo ce lo diciamo tutte le volte, ma questo campionato ogni partita ti mette di fronte ad una squadra fortissima, il Benevento nasce con l'ambizione di stare tra le posizioni alte di classifica insieme al pari di altre squadre, non ha avuto un buon inizio di campionato, però è una squadra che ha valori assoluti individuali e che sta cercando adesso con l'arrivo del nuovo allenatore di trovare una quadratura, per cui mi aspetto una partita dove bisogna stare attenti, dove bisogna avere grossa attenzione e non distrarsi mai, perché hanno giocatori che ti possono far male in ogni momento. Il tuo Bari è la negazione del fattore campo, lo dicono i numeri, non io, nel senso che ho conquistato sei punti in casa in cinque partite, tredici fuori in sei, quindi il doppio fuori casa. Allora, siccome da una parte ci sono i numeri, dall'altra ci sono i fatti, perché avremmo potuto probabilmente meritato qualcosa in più, però io la faccio stretta. Il Bari è stato più yellato in casa o più fortunato fuori? Insomma, dov'è la verità? L'allenatore, che ne pensa? Ti senti più in credito da una parte, in debito dall'altra, in relazione al fatto che oggettivamente adesso andiamo a giocare fuori e forse, visti i risultati, uno deve essere più tranquillo quando il Bari gioca fuori che in casa? Io, Franco, penso che abbiamo, probabilmente, punti che abbiamo meritato di fare. Se penso ad alcune trasferte, forse abbiamo vinto partite che potevano finire in parità, se penso ad alcune partite in casa, probabilmente non abbiamo vinto partite che meritavamo, potevamo vincere. Non faccio grossa distinzione nella preparazione alla partita tra giocare in casa, giocare in trasferta. Ripeto, noi lavoriamo su un'idea, su una mentalità, su un pensiero e andiamo a giocarcela dappertutto. Poi i numeri non mentono, soprattutto quando poi cominciano ad essere tanti e questo vuol dire che può anche voler dire che le squadre avversarie in casa ci affrontano in un certo modo, in trasferta ci affrontano in un altro modo. Può anche voler dire che ogni settimana, come spesso dico, ci conoscono e quindi ci conoscono meglio e quindi possono pensare di adottare delle contromisure, però rimango dell'idea che noi prepariamo sempre la partita per provare a vincere. Credo che questo l'abbiamo anche dimostrato anche nell'ultima partita in casa, dove abbiamo creato, abbiamo, credo, messo anche in difficoltà una squadra come la Ternana che fino alla settimana prima era prima in classifica. Sì, mister, nell'ottica di trovare qualche altra strada per segnare, visto che insomma dipendiamo essenzialmente da tre calciatori in questo momento, sempre facendo riferimento ai numeri, volevo chiederle come ha visto, come sta vedendo la crescita di Schiedler, lei ha un po' centelinato, ha gestito l'inserimento suo e di Zuzek, lui ha dato qualche segnale nella scorsa partita, e come invece valuta il momento di Setter, era un giocatore che per caratteristiche avete sempre definito, lei è il direttore sportivo ideale per il modo di giocare del Bari, però questo ragazzo continua ad avere qualche problema, insomma, non avere continuità. Parto col dire che credo che sia anche scontato il fatto che se un giocatore gioca sempre, o quasi sempre, 90 minuti ogni partita, abbia più probabilità di segnare di uno che ne gioca molti meno. Che dire a uno che ha giocato sempre, Antenucci uno che ha giocato sempre, Floruncio uno che ha giocato sempre, sono quelli che ci hanno fatto più gol, sono i nostri terminali offensivi, e trovo anche normale rispetto a, se li metto a paragoni con, che ne so, con Salcedo, con Setter, con Schiedler, che hanno giocato meno minuti, e quindi non potremmo mai sapere se giocando gli stessi minuti avrebbero fatto più o meno gol. Detto questo, Schiedler e Zuzek, che tu hai nominato, hanno raggiunto un livello di... hanno raggiunto i compagni di squadra, per conoscenze, per condizione atletica, e quindi sono... li considero come gli altri, e possono giocare dal primo minuto, entrare, ma per me adesso sono alla pari degli altri. Prima li ritenevo un passo indietro, ma credo che fosse anche normale, poi uno se ha la necessità avrei potuto inserirli prima, ma la necessità non c'era, e quindi ho cercato un inserimento graduale, e secondo me adesso sono al pari degli altri. Setter ha avuto un problema fisico, Setter non si sta allenando con la squadra, e quindi al di là delle caratteristiche, al di là di tutto, in questo momento non è a disposizione. Prego Paolo Ruscito. Mister, la storia delle ultime partite è una storia molto diversa, proprio anche rispetto ai risultati che sono maturati, però c'è una riflessione che personalmente ho fatto, e che vorrei condividere con lei, rispetto anche all'atteggiamento della squadra, perché all'inizio si diceva che uno dei punti di forza del Bari, del suo Bari, fosse la spensieratezza, il fatto di giocare appunto senza quella pressione di dover vincere a tutti i costi, che aveva la sua squadra lo scorso anno. Ritiene che i risultati, le prestazioni, magari anche quella scarsa lucidità sottoporta dell'ultimo periodo, sia figlio invece di una responsabilità maggiore, che avverte la squadra, che si è ritrovata insomma in virtù di ottime prestazioni, più in alto in classifica, e le chiedo in virtù anche delle scelte che farà domani, ci sarà sicuramente tra i nodi da sciogliere, quello che riguarderà Ruben Botta, lei ha parlato di una partita di alto livello con la Ternana, quanto è felice di aver ritrovato il calciatore che l'anno scorso ha trascinato il Bari nel girone di andata? Hai fatto una considerazione intelligente, alla quale io non sono in grado di risponderti, non credo, non penso, io credo che la squadra abbia preso coscienza di un campionato difficile, che abbia preso coscienza che per vincere la partita, ogni partita ci vuole una piccola impresa, però ritengo che la squadra non abbia cambiato atteggiamento rispetto alle prime partite, anzi abbiamo mantenuto un atteggiamento sempre spensierato, sempre propositivo, è chiaro che ogni partita ti dà qualcosa in più, perché ogni partita contro avversari forti ti fa crescere al di là del risultato, quindi non ho percepito, se posso darti questa risposta, non ho percepito che la squadra abbia, rispetto all'inizio, subito pressioni perché è stata nei quartieri alti della classifica, sono contento che Botta abbia fatto un'ottima partita e io vorrei che questo si ripetesse nel caso in cui io lo mandassi in campo, deve dare continuità in allenamento, deve dare come sta facendo, deve dare se gli do la possibilità continuità di prestazione in partita, quello che più mi ha fatto felice è che nell'ultimo periodo ho visto un giocatore molto presente, molto presente, sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto fisico, cosa che qualche tempo fa non vedevo. Buonasera, mister, le chiedo, avendo visto la partita Benevento-Pisa, sei visto un Benevento molto guardingo che ha sofferto un po' l'aggressività del Pisa e stava rischiando anche di perdere, però poi con l'individualità e con la fisicità nel finale hanno avuto la possibilità di vincere. Sabato dobbiamo aspettarci un Bari più che punti alla prestazione, un Bari più di sostanza, come appunto diceva, in altre trasferte si è visto o comunque che tipo di Bari dobbiamo aspettarci? Io penso che per andare a fare il risultato a Benevento ci voglia per forza un Bari di sostanza. Come è successo in altre trasferte, come è successo a Venezia, come è successo a Cagliari, come è successo a Frosinone, devi fare prestazione, devi mettere sostanza, devi opporti sia con organizzazione ma anche con agonismo, con intensità, perché altrimenti non esci vivo da nessun campo, né dal nostro né da quello degli avversari, quindi lo sapete che questo per me deve essere una base, un presupposto, il primo pensiero è battagliare. Poi nella battaglia bisogna anche riuscire a metterci organizzazione e qualità, perché altrimenti non completi l'opera. Buongiorno Ministro, ricollegandomi alla questione Goal, personalmente lei da chi si aspetta maggiore contributo? Perché ad esempio fa specie vedere una mezzala come Maita, quasi sempre con pochi numeri da quel punto di vista, anche magari penso Ivaris Alcedo che lei lo usa come arma da giocarsi nella ripresa, ancora non ha segnato, ho la stessa difesa, l'anno scorso ci eravamo abituati qualche gol dai vari Terranova, lo stesso di Cesare, però ho ad oggi ancora il tabellino dice zero gol, quindi personalmente tu, da chi ti aspetti, maggior contributo? Io penso che i gol li possano fare tutti, magari è più difficile che lo facciano i terzini perché i nostri terzini quasi mai vanno a saltare sulle pallenative e non gli chiedo, a meno che non ci siano situazioni e eventi particolari, di inserirsi in zona goal, sono preposti magari a creare superiorità numerica sugli esterni, a fare gioco e ad arrivare sul fondo o vicino al fondo per crossare, quindi poi per il resto dagli altri giocatori io credo che i gol si possano fare in tanti modi, quindi con i difensori quando vanno a saltare sul calcio d'angoli, con le mezzali quando si inseriscono, chiunque esso sia in campo, di mezzala, con i trequartisti, con gli attaccanti, io mi aspetto che tutti prima o poi possano trovare la via del gol, come dicevo prima, è normale che più uno gioca, più uno in campo, e più probabilità di fare gol, però penso che gli attaccanti che abbiamo quando giocano possano avere la possibilità di segnare, i centrocampisti uguali, poi ci sono quelli che hanno più caratteristiche e presenza in zona goal e quelli che ne hanno meno, ecco, Maita probabilmente è una mezzala che al di là del tiro da fuori, però è una mezzala che ancora può crescere e migliorare sotto l'aspetto realizzativo perché deve trovare inserimenti, lui, ma inserimenti quelli che fanno più male sono quelli senza palla, lui ne fa pochi. Chiusura, prego. Sì, salve mister, le chiedo come sta Antenucci e se, diciamo per il futuro, avendo a disposizione poi Botta, Bellomo e lo stesso Antenucci, un'idea può essere quella di giocare con Botta e Bellomo alle spalle dell'attaccante di Chedira, parlo sempre di soluzioni in assenza di Antenucci, grazie. Antenucci sta bene, se non succede niente in questi ultimi giorni sta bene, ieri si è allenato, ha fatto tutto l'allenamento con la squadra, ha fatto un lavoro preventivo nei primi giorni della settimana, ieri ha fatto tutto l'allenamento quindi per me è recuperato, chiaro che ha perso una settimana di lavoro ma non aveva mai saltato un minuto prima, quindi questo non è un grosso problema. Torna a disposizione Bellomo, che è un giocatore affidabile e che può fare secondo me anche lui tutti i ruoli di centrocampo perché può fare il trequarti come l'ha utilizzato, può fare anche la mezzala e abbiamo i giocatori per pensare tante cose e per metterci in tanti modi, chiaro è che credo che non ci discosteremo molto da avere comunque anche a Benevento tre giocatori offensivi. Scusa Michele non so se sei d'accordo con me perché io per esempio come tanti altri abbiamo visto con la Ternana un Bari bello oggettivamente gli potevi chiedere solo il gol in più non è che gli potevi fare altri appunti ma non è che noi lavoriamo molto per fare gol dobbiamo lavorare sempre tanto hai un'idea lo sfruttamento dello schema sui calci piazzati e sulle botte da distanza io non conosco i dati però ripassando a memoria come segniamo forse lì ci manca qualcosa nel senso che tu i gol non li hai mai regalati dalla botta da 30 metri o dal calcio d'angolo quest'anno dobbiamo lavorarci molto per arrivare vero o no? Il gol su Pallena Attiva mi ha fatto uno mi ha fatto uno di testa è vero che qualche volta ci siamo andati vicini è vero che sicuramente dobbiamo migliorare perché i gol si fanno in tanti modi lo dico sempre lo dico anche alla squadra i gol si fanno puliti ed è difficile si fanno sporchi ed è più facile si fanno su Pallena Attiva si fanno su su tiri da fuori si fanno forse quello che ci manca è sicuramente il gol da Pallena Attiva e dobbiamo dobbiamo migliorare dobbiamo al di là degli schemi dobbiamo essere cattivi quando andiamo a ad offendere in area di rigore degli altri dobbiamo calciarli bene quando li calciamo direttamente e probabilmente anche qualche tiro da fuori si potrebbe fare però io credo che tiri ne facciamo ogni partita abbiamo una percentuale buona di tiri forse dobbiamo forse dobbiamo aggiustare la mira ringraziamo mister Mignani lo lasciamo la seduta di definitura diamo appuntamento a saluto alle 14